Quest'estate è venuta l'idea perché Biagio era in crisi profonda in quanto c'erano tante tasse che arrivavano sulla spazzatura, Enel, Immobile eccetera eccetera, quindi ha avuto bisogno di aiuto. In più era stato rubato il pulmino che loro nella missione avevano. E allora alcune di noi, persone semplici, di buona volontà, niente di particolare, abbiamo pensato cosa possiamo fare per Biagio? Mettiamoci insieme, abbiamo costituito questo comitato così molto semplicemente e abbiamo cominciato questa raccolta fondi, naturalmente noi prima abbiamo raccolto e poi via via le persone. È un dono prezioso perché già Alcamo ha un cuore grande, veramente si sono riuniti, hanno fatto un gesto molto bello alla comunità femminile, veramente che tanto ne avevamo bisogno. Ecco, allora io credo che questo è un gesto prezioso e sono questi i gesti che dobbiamo fare. Ecco, questo è il vero Natale, la vera Pasqua e quando si pensa agli altri, si dona a chi rimane indietro, a chi è più debole e io credo che ritorna molto bene, ritorna grandemente. E io credo che da questa crisi si può uscire se ognuno fa la sua parte, se ognuno dà una mano. Ecco, possiamo farlo, possiamo farla anche se c'è una crisi che vuole scoraggiare, ma questa crisi è perché ancora, ecco, non abbiamo tempo per Dio, non abbiamo tempo per il prossimo. E allora ecco che tutte le cose si complicano. Ed è lì ogni volta questo egoismo, questa indifferenza prende sopravvento. E poi siamo sempre più tristi, ma quando doniamo siamo sempre più leggeri, siamo sempre più liberi. E allora ecco che donando si riceve.